1.000, 2.000, 3.000 euro in soli 4 giorni come ho fatto con il trading e come puoi farli anche tu da ragazzo. Quindi se sei un ragazzo e vuoi fare del trading il tuo lavoro e vuoi iniziare a guadagnare con il trading allora devi assolutamente guardare questo video. Fermati perché non sto per dirti che il trading è facilissimo. Anzi, il trading è molto molto difficile, però è possibile generare queste cifre in 4 giorni e spesso anche in meno giorni e soprattutto spesso anche cifre molto ma molto più grosse. 3.000 euro è molto di più di uno stipendio medio italiano anche pagandoci le tasse, quindi anche pagando le cosiddette plusvalenze. In questo video ti mostrerò come con le giuste competenze e con il trading, in questo caso trading Forex, quindi di valute, è possibile generare ovviamente andando a gestire dei conti finanziati più di 3.000 euro ogni singolo mese. Ovviamente non ti serve per forza un capitale di partenza come quello che ho utilizzato io perché ci sono appunto aziende che ti prestano questo capitale. Poi ti spiegherò in questo video anche altri metodi per poter iniziare a fare trading se hai pochissimi soldi. Ciao amico trader, benvenuto, bentornato in questo nuovo video. Se ancora non mi conosci, io sono Salvatore, un trader affermato ormai da anni che ha fondato la propria academy di trading dove ovviamente formo degli studenti e li porto da zero a profitto in soli 3 mesi. Quindi se sei interessato inizia a preparare la carta per rastrisciare. Adesso però andiamo a vedere questo video e andiamo a vedere come ho generato questi 3.000 euro e come puoi generarli anche tu. Prima cosa importante, di che cosa hai bisogno per generare queste cifre con il trading? Prima cosa fondamentale ovviamente è le competenze. Non puoi improvvisarti ad essere trader, a fare il trader e soprattutto molto probabilmente se hai già testato non puoi diventare un trader e fare questi profitti semplicemente seguendo dei contenuti gratuiti che trovi online e ovviamente magari su YouTube. È importante formarsi da qualcuno che faccia trading, che sia un trader e che ti porti ovviamente ad avere la consapevolezza di poter fare questi risultati ogni mese. Prima di mostrarti i trade che ho fatto e le motivazioni dietro ai trade, ti mostro ovviamente il conto. In questo caso è un conto su FPMarket Live, reale, da 50.000 euro. Ti mostro ovviamente tutta la storia. Questa è la WPS dove gestisco i miei conti. Depositi, eccoli qua. Li possiamo andare a vedere. 5 da 10.000 euro. Questo è il primo trade con profitto da 2.000 euro. Poi ci sono dei break even, c'è un piccolo stop loss e poi c'è il trade da 2.000 che mi ha portato ad aggiungere all'altro trade in profitto che adesso ti mostrerò e a generare appunto 3.000 euro, eccolo qua, in soli 4 giorni. Come possiamo vedere i trade sono stati fatti gli ultimi l'11 di ottobre e quindi il primo il 8 ottobre. Ok, quindi in soli 4 giorni ho generato appunto questi 3.000 euro, cosa che puoi fare anche tu, anche se non hai 50.000 euro ovviamente per fare trading. Perché? Perché andiamo allo secondo step, ci sono aziende che ti danno la possibilità di gestire conti anche da 50, da 100 e da 200.000 euro senza appunto possedere questi soldi. Ci sono più alternative e te le spiegherò in questo video. La prima alternativa, assodate ovviamente le competenze nel trading, se ancora non le hai e vuoi imparare a fare trading ovviamente puoi scrivermi su Instagram o trovare un video gratuito che trovi qua sotto, sotto al video per poter iniziare a generare queste cifre con il trading grazie ad una formazione seria nel mondo del trading. Ovviamente ti anticipo che questa ha un costo e non parliamo dei soliti videocorsi nel trading ma di un percorso di formazione in one to one, quindi dove sei seguito passo passo. Detto ciò, assodate le competenze, passiamo alla gestione dei conti. FTMO, una delle proprie più serie sul mercato, per ad esempio circa 300 euro, ok? Ti dà la possibilità 345 euro che tra l'altro ti restituisce se fai profitti. Ovviamente ti dà la possibilità di superare una sfida. Una volta superata questa sfida ti dà in gestione un conto da 50.000 euro proprio come quello che ho utilizzato io che potrai utilizzare per fare profitti. Ci sono anche conti più grandi da 100.000 e da 200.000 che hanno ovviamente dei costi sempre maggiori. Fai attenzione però, questi costi che ovviamente affronterai una volta superate le sfide ovvero le challenge per gestire il conto, per ottenere il conto, ti verranno rimborsati al primo payout. Quindi quando genererai i primi profitti sul conto ovviamente finanziato, dopo aver superato le sfide riceverai indietro anche il costo della challenge che ovviamente hai utilizzato, hai acquistato. Puoi acquistare anche magari un conto più piccolo per iniziare se parti ovviamente con poco budget quindi magari un conto da 25 con 250 euro, un conto da 10.000 con 89 euro. Puoi iniziare e scalare questi conti. Questa è la prima alternativa. Passiamo alla seconda. Axi Select è il broker che sto utilizzando io e che ti dà un'importantissima opportunità. Depositando 500 euro su questo broker hai la possibilità di superare le stesse identiche sfide di una challenge, quindi di una prop firm, senza però andare a comprare la cosiddetta challenge. In questo caso tu depositerai i tuoi 500 euro, farai trading con i tuoi 500 euro e rischiando al massimo il 10% dei tuoi 500 euro, quindi parliamo ad esempio di 50 euro, potrai superare tutte le sfide che Axi ovviamente ti mette davanti e man mano che superi le sfide Axi ti assegna dei conti che partono da 5.000 fino ad arrivare a 1.000.000 in gestione e ovviamente funzionerà come l'e-prop, ti pagherà i profitti che tu genererai, ti pagherà una parte dei profitti che arriva fino al 90% di profitti generati. Ovviamente ho registrato un video dedicato proprio riguardo Axi Select, più video dedicati li trovi sul mio canale se sei interessato a sapere più nel dettaglio come funziona perché è molto lungo da spiegare e quindi anche qui puoi partire con 500 euro. Ovviamente in descrizione sotto al video trovi tutti i link che ti servono, dalla formazione ad FTMO, ad Axi Select e qualsiasi altra cosa che ti menzioni in questo video trovi comunque il link qua sotto al video in descrizione. Ultima opzione e quella più complicata è FPMarket, il miglior broker al mondo, secondo me è quello che personalmente utilizzo, infatti abbiamo visto il conto real su FPMarket, qui puoi depositare i tuoi 500 euro, non avrai nessuna challenge, non avrai nessuna sfida da superare, potrai operare con i tuoi 5 euro, adottare una gestione un po' più aggressiva del rischio, quindi andare a rischiare magari il 5% per ogni singola operazione e scalare questo conto con il cosiddetto interesse composto, andando a rischiare sempre il 5% del conto con un equity che tenderà ad aumentare se sarai profittevole, in modo tale che rischiando sempre il 5% di un equity che andrà ad aumentare il tuo conto aumenterà con il cosiddetto interesse composto e riuscirà a generare queste cifre in qualche anno, arrivare proprio a gestire dei capitali davvero importanti. In questo caso ovviamente inutile dirti, ma anche come negli altri casi c'è bisogno di avere una competenza di base davvero importante, perché altrimenti riuscirà a generare dei profitti momentanei, ma poi questi potrebbero essere bruciati e potresti rischiare di bruciare tutto il tuo conto se ovviamente non avrai una corretta gestione, cosa che invece un vero trader fa e non va a rischiare di bruciare tutto il proprio conto. Adesso finalmente passiamo secondo me alla parte che più ti interessa, quali sono i trade che ho preso, adesso ti mostrerò, siamo su euro-dollaro, siamo da qualche settimana dopo una settimana intera di short di euro-dollaro, ovviamente in questo caso io dopo la rottura di tutte le strutture che insegno ai miei studenti short ero in circa di uno short, perché ovviamente c'era qua un'area interessante di prezzo dove si poteva tentare lo short di euro-dollaro, nella sessione di Londra che è quella che trado maggiormente in euro-dollaro alle 9 di mattina, verso le 9 qualcosa di mattina, dopo le 9 ovviamente inizia alle 9, mi ha dato il setup short ok con una bella candela engulfing a M5, ovviamente che ragazzi non basta trovare una candela di engulfing ed entrare short o long perché rischiate una marea di stop loss, il mio primo trade da RR 1 a 2 è quello qua, con Tick Profit che adesso vi faccio vedere con subito, eccolo qua, se andiamo su FPMarket, un history, andiamo a vedere subito il primo trade, eccolo qua ragazzi, 1930 dollari di profitto, RR 1 a 2 meno le commissioni ok, e ovviamente mi sono fermato in quella giornata con il trading, ho aspettato nei giorni successivi per capire se ci fosse magari qualche altro setup, un trader deve anche ragazzi capire quando magari è il momento di smettere di operare finché non si presenta un setup, in questa zona qua cercavo un long ok, pensavo che euro-dollaro potesse, non dico ripartire long ok, perché ancora lo vedo short, ma comunque pensavo che potesse darmi la presa della liquidità asiatica, come poi è successo però durante la news, ho preso in questo caso non triple stop loss, ma ben 3 break even, che possiamo vedere ragazzi tranquillamente qui, eccoli qua i 3 break even, come possiamo vedere meno 44, meno 24 e meno 24, perché ho preso 3 break even? Perché ovviamente dopo essere partito il prezzo, essendo 3 news ed essendo ovviamente un asset prettamente short non volevo rischiare di prendermi degli stop, quindi prendevo l'entry, il prezzo partiva, io mettevo subito a break even e ovviamente proteggevo il capitale in questo modo, l'ho fatto per 3 volte e ho evitato ovviamente 3 stop loss, un trader deve saper fare anche questo e non credete ai trader che non prendono ragazzi stop loss perché è impossibile, poi prima della news ho deciso di star fermo, non ho più operato, ovviamente la news avrebbe fatto davvero dei danni incredibili, infatti la news va sulla sessione asiatica e prende liquidità come mi aspettavo, speravo lo facesse ovviamente prima. Poi ovviamente ragazzi arriviamo all'ultimo trade, agli ultimi due trade, c'è uno stop loss che è questo qua, meno 326 euro che ho preso, eccolo qua ragazzi, ho tentato un entry con un rischio più basso, infatti ho preso uno stop di 300 euro perché c'era il mio entry setup ma non mi piaceva la zona, me lo aspettavo un po' più su. Infatti dopo lo stop il prezzo mi dà di nuovo il mio entry setup, sempre short in questo caso, preferito il trade short, RR 1 a 3 stop da 1000 euro, in questo caso RR 1 a 3 e trade che va in profitto con, eccoli qua ragazzi, 2000 euro di profitto che si aggiungono ai 1000 iniziali perché erano 2000 di profitto, 1000 li ho persi sostanzialmente tra stop e cose varie, ok? E poi si sono aggiunti questi altri 2000 di profitto per un totale di 3025 euro di profitto in 4 giorni. 3000 euro ragazzi sono comunque il 6% di un conto da 50.000 euro quindi una percentuale di profitto abbastanza alta direi in soli 4 giorni, sto pensando se iniziare a prelevare questi 3000 euro e ripartire da zero o se ovviamente continuare per aumentare i profitti. Tendenzialmente io tendo sempre a prelevare i profitti soprattutto sulle proprie non ha senso ragazzi andare a rischiare i profitti generati, meglio prelevarli e ripartire da zero in modo da mettere al sicuro il capitale. La prima regola è proteggere sempre il proprio capitale, soprattutto poi se in questo caso è un capitale reale, quindi con soldi reali. Adesso se vuoi iniziare un percorso chiave in mano con un vero trader che ti porterà da zero a profitto in 3 mesi, trovi il link in descrizione sotto questo video, troverai un video gratuito che ti spiega come fare per accedere, avrai la possibilità dopo aver visto il video gratuito di poter prenotare una consulenza con me direttamente o con uno dei miei coach assistenti per vedere se hai requisiti ovviamente per poter iniziare questo percorso. I requisiti non sono ragazzi soltanto monetari, ma sono anche dei requisiti per capire se effettivamente potete iniziare questo percorso perché io non prendo tutti e tra l'altro ci sono degli spot numero di utenti limitati, non posso seguire 100 persone, è un percorso dedicato in one to one, quindi non un videocorso dove sei abbandonato a te stesso. Per vedere il video dovrai lasciare giusto qualche informazione, veloce, nome, cognome, mail e telefono, dopodiché sbloccherai il video e lo guarderai. Dopo il video potrai iscrivermi su Instagram per maggiori informazioni o meglio ancora prenotare direttamente una call totalmente gratuita nella quale ti verranno date tutte le informazioni del caso e sapere tutto ciò di cui hai bisogno. Ovviamente mi raccomando ragazzi se prenotate la call mi raccomando segnate la call e presentatevi alla call perché se poi non mi presentate alla call senza preavviso ovviamente non avrete la possibilità di prenotare un'altra call. Questo lo devo fare ovviamente per il rispetto del mio tempo e del tempo dei miei assistenti perché spesso le persone mancano di rispetto. Quindi mi raccomando adesso lascia un like a questo video per supportarvi, come sempre e iscriviti al canale e fammi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensi. Grazie.